buongiorno buongiorno senti io volevo un'informazione volevo sapere com'è possibile fare la tessera con voi la tesseramento fisico allora ascoltami se non hai mai fatto gare se manco mi stassi stato tesserato comunque non importa vuoi andare a sciare andate a sciare devi però rivolgerti a uno sci club è bisogno solo uno sci club cercati uno sci club che ti vada nei posti dove vai solitamente perché se tanto sci quello lo fai quindi dove vai solitamente ti cerchi su internet uno sci club di riferimento chiami loro e ti fai tesserare da loro ok poi non so se devi farti fare la tessera ad agonista e quindi la parli di più anche se poi tu agonista non sei ok questo lo sci club puoi anche non telefonargli più per il resto nella vita se vai solo con i tuoi amici il venerdì sabato e domenica o te ne vai settimana bianca un giorno o un altro luce gli ho detto di no ah cioè in che senso perché lui se metto a riferimento io farei uno dei tanti tuerbetti lei vuole fare solo la fisica si c'è lo sci club che io frequento perché ci conosciamo da 50 anni che loro fanno la fisica fanno la fisica noi siamo una società affinata fisica e facciamo i tesseramenti regolarmente insomma se le giro le giro il coso il suo numero numero il presidente dopo deve solo mandare dei dati e va bene chiaramente cose dopo viene fatto tutto online al momento insomma noi siamo aperti in questo periodo un po ridotto come orari oggi dalle 16 alle 20 oppure martedì dalle 17 alle 20 ok ingresso indipendente pagamento in contanti costa 35 euro la fisica e 6 euro la tessera ok perfetto e devo portare qualcosa con me in particolare qualche documento no deve compilarmi poi il modulo con tutti i suoi dati codice fiscale mi raccomando corretto se no non passa l'iscrizione se passa oggi domani domani è già praticamente assicurato sono già tesserato domani praticamente sì 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 sì